Aggressivi, spietati e pragmatici. Parliamo degli angeli custodi, non di quelli benevoli ed eteri che guidano i nostri passi e ci proteggono dall'insidia ogni giorno, ovviamente, ma di quelli nerazzurri capitanati da Gaetano Albano che hanno maltrattato calcisticamente parlando il rosso-blu di Medici Casabella. Non c'è stata partita perché i nerazzurri fin dalle prime battute hanno messo sottopresso negli avversari colpendoli con spietata freddezza controllando poi la situazione per il destro della gara. Se non fosse stato per alcuni interventi del portiere avversario la vittoria sarebbe potuta essere ben più larga. Ci hanno provato i ragazzi di Medici Casabella ma purtroppo per loro ha prevalso la differente caratura tecnica a vantaggio di angeli custodi. Matarrese osserva il piazzamento dei compagni ma sono tutti marcati stretti e da allora ci pensa lui a scaldare le mani di Stefanelli con questa bomba dalle 30 yard. Sul successivo calcio d'angolo arriva il vantaggio per angeli custodi per merito di Gaetano Albano che raccoglie il pallone e lo deposita in rete nonostante il disturbo del difensore avversario. 1-0 per angeli custodi e il ceno nero all'orizzonte non promette nulla di buono per Medici Casabella. Neanche il tempo di riprendere il gioco che gli angeli custodi raddoppiano con Santese che approfitta di un errato disimpegno di Piccolo per involarsi indisturbato in area di rigore e battere Stefanelli con un preciso sinistro che si deposita alla destra del portiere rosso-blu. Prova contro battere Medici Casabella con Festa che controlla bene il pallone al limite dell'area ma poi conclude alto sopra la traversa. Bosa si ricorda dei suoi trascorsi nella cantera del Barça e serve Santese con un bel passaggio no look. La conclusione del numero 21 nera azzurro però è troppo debole. Occasionissima per Matarrese che corre solitare sulla fascia destra, entra in area e tira ma Stefanelli si oppone. Piccolo poi si occupa di rimurare il successivo tentativo di Albano. Basile di prepotenza si impossessa della palla ai danni di Giuseppe Bruno e poi serve Albano con un bellissimo pallonetto. Stefanelli però in versione kamikaze si butta sul pallone salvando la propria porta. Lancio di Ricci per Santese che scatta sul filo del fuorigioco e si proietta solitario verso l'area di rigore. L'attaccante nera azzurro buon gioco contro Stefanelli e insacca il pallone del 3-0. Doppietta e dedica per il numero 21 di Angeli Custodi. Numero di Emanuele Albano che serve Bosa il quale viene contrastato dai difensori rosso-blu. La palla però perviene a Gaetano Albano che senza pietà segna la rete del 4-0. Da questo calcio d'angolo nasce il quinto gol dei nera azzurri ed è ancora Gaetano Albano che di testa gonfia la rete avversaria per la sua personale tripletta. Anche se il cielo è livido sopra rocca forzata per il capitano di Angeli Custodi oggi è una splendida giornata. Si permettono di fare i fighi gli attaccanti nera azzurri ma Stefanelli si oppone a questa dimostrazione di forza stoppando la conclusione di Albano. I rosso-blu hanno un moto d'orgoglio cinque minuti più tardi allorquando Piccolo si incune in area e crossa al centro dove Rialto di inerzia spinge il pallone se stesso in rete per il gol del 5-1. All'ottavo minuto della ripresa arriva il secondo gol di Medici Casabella. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mansueto viene fuori dalla mischia e scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Non è una scena del gladiatore, è Piccolo che mantiene palla caparbiamente in attacco tra un nugolo di avversari finché non trova il varco giusto per scagliare il tiro in porta. Baldi per ora respinge coi pugni negandogli la gioia del gol. Ricci da fondo campo fa partire un cross telecomandato sulla testa di Santese che batte a colpo sicuro ma Stefanelli è superlativo nella risposta. Cardellicchio fa valere la sua laurea in matematica confezionando questa apertura calibratissima per Bosa che si libera di Laudato e batte per la sesta volta Stefanelli con un preciso destro che si infila nell'angolo più lontano. Non si danno per vinti i rosso-blu di Medici Casabella anche se la fortuna non gli assiste quando la conclusione di Rialto si spegne contro la traversa anziché entrare in porta. Gaetano Albano non è sazzo e da allora ci prova con un'azione solitaria ma il suo tiro sorvola la trasversale. Un altro tentativo in attacco per Medici Casabella con Lucente che riceve palla limite dell'area e tira sfiorando l'incrocio dei pali. C'è il tempo per un ultimo tentativo di Albano che scattato sul filo del fuorigioco si ritrova tu per tu con Stefanelli ma sbaglia completamente il tiro. Il triplice fisco del direttore di gara manda tutti a casa Angeli Custodi batte Medici Casabella 6 a 2.